C'è qualcosa che sta sfondando la barca! Fermi, state giù! No! Aiuto! No! Siamo su un'isola vulcanica. Vediamo se ci vive qualcuno. Non muovetevi! Io decido tutto ciò che succede su quest'isola. Io soltanto sono la legge. Che potere ha, Rackham? Che sta facendo su quest'isola? Cosa nascondete? Chi cerca quel che non deve trova quel che non vuole. Dobbiamo trovare una barca e scappare di qui. Allora sei proprio un idiota. Datemi una donna e sono disposto a passarci anche il resto dei miei giorni in questo martaio. Voglio sapere cosa sta succedendo. Voglio sapere cosa nasconde quest'isola. Hai il privilegio di ammirare una città del continente perduto di Atlantide. Lì, a 500 metri di profondità, era chiuso un enorme tesoro. 500 metri? Ma nessuno può raggiungere una profondità simile. Nessun essere umano, ovviamente. Vede, quando arrivai su quest'isola 15 anni fa, chiesi l'aiuto del professor Marvin. Avevo bisogno di qualcuno che potesse entrare in contatto con loro. Ernest Marvin, il biologo. Non posso andare via. Il mio lavoro non è ancora finito. Il mio lavoro non è ancora finito. Quale lavoro? La prego. Che cos'è che deve finire? Cosa sta per scoprire, professore? Io non ho scelta. Devo restare. Ma di che cosa hai paura? Amanda ormai appartiene a quest'isola. E anche lei deve morire, adesso che quest'isola morirà. Non sei pazza, Shakira. Ricorda la profezia, Edmond. Il dio sole salirà dagli abissi e il grande vulcano distruggerà l'isola. Il dio sole. Il dio'albio. Il dio'albio. Il dio'albio. Grazie a tutti.